Se hai già visto il video in cui ho parlato della mia nuova dieta carnivora, sai già come l'ho modificata. Quindi sai già quali sono gli alimenti che non mangio più e quali sono invece gli alimenti che ho introdotto. Se vuoi sapere i motivi per cui ho apportato queste modifiche, ti rimando a quel video in cui spiego bene tutto quanto nei particolari. Da come ho già accennato in quel video precedente, adesso mangio carne, pesce e burro. O meglio, per essere più completi, carne di manzo, organi di manzo, pesce e burro. I pesci che mangio regolarmente sono principalmente merluzzo e alici, poi ogni tanto anche salmone e qualcos'altro giusto per cambiare un po'. Il burro lo abbino ovviamente alle carni più magre e ai pesci più magri, ma soprattutto vicino al pesce. Anche perché ai tagli di carne più magri abbino anche gli organi grassi. Stiamo parlando del timo, del cervello, eccetera, eccetera. A livello generale, poiché il mio obiettivo è mettere peso e avere abbastanza energie per performare bene, in questo momento sto mangiando più o meno un chilo e mezzo, quasi qualche volta anche due chili, fra carne e pesce al giorno. Quindi sommati carne e pesce, più o meno fanno un chilo e mezzo, due chili al giorno. In generale faccio così. Ok, col merluzzo non mi pongo assolutamente limiti. 700, 800, 900 grammi, un chilo anche. E poi ci abbino 100 grammi di burro. Quando invece il burro lo abbino alla carne, lo tengo attorno ai 50 grammi. Ma comunque il burro non lo mangio sia a pranzo che a cena. Per il momento mi sto trovando bene, poi nel dettaglio lo vedremo meglio nel prossimo video, in cui parlerò appunto della mia esperienza con il burro. Però per sicurezza, poiché ho fatto diversi errori in passato, quindi con le fonti di grassi che ho aggiunto alla mia alimentazione, le ho mangiate troppo spesso, insomma ne ho abusato, poi alla fine ho avuto problemi, anche con qualcosa che all'inizio non sembrava darmi problemi. Per precauzione, il burro cerco di o non mangiarlo tutti i giorni, oppure se lo mangio tutti i giorni, di mangiarlo solamente a pranzo, per esempio. In questo modo, finora, finora, che è qualche mese che sto mangiando il burro, non ho avuto ancora problemi. Avendo già mangiato a pranzo il pesce, la sera vado di carne, ovviamente, di carne di manzo. Se sono abbastanza grassa, posso mangiare due costate di manzo, sui 500-600 grammi di carne grassa. Dipende poi a livello generale quanta fame ho, dipende se mi sono allenato durante la giornata. Chiaramente se mi sono allenato avrò più fame, se non mi sono allenato avrò meno fame. Oppure posso mangiare, che ne so, 600-700 grammi di lingua, e la lingua è anche una carne grassa. Oppure posso mangiare un 600 grammi di diaframma e metterci, che ne so, un 100 grammi di timo, qualcosa del genere. Poi non è una cosa rigida, ok? Per cui, in base a quello che ho a disposizione, cioè un giorno posso mangiare, che ne so, la carne a pranzo e il pesce la sera, oppure un altro giorno posso mangiare carne sia a pranzo che a cena, un altro giorno ancora posso mangiare pesce sia a pranzo che a cena. Cioè dipende da quello che ho a disposizione, ma comunque a livello generale, questo è quello che mangio in un giorno. La maggior parte delle persone aveva la minima idea che si può mangiare solo carne e pesce e stare benissimo, che in realtà questo è il cibo ideale per noi, cioè io non ho bisogno di nient'altro. Arriveranno sicuramente persone, come è successo nei video precedenti, che mi diranno ma mancano i carboidrati. Esatto, è proprio questo il punto. Non ho bisogno assolutamente di mangiare carboidrati, perché i carboidrati sono l'unico macronutriente non essenziale. Proteine e grassi sono essenziali, che se non consumiamo, moriamo semplicemente. Non è possibile andare avanti senza proteine e senza grassi, ma senza carboidrati, come dimostra il sottoscritto, si sta benissimo. E da come ti sarai accorto da qualche video precedente, sono due anni che sono in dieta carnivora. Non ho mai sgarrato, non sono mai uscito dalla dieta carnivora. L'unico alimento di origine vegetale che mangio sempre, alla quale non rinuncerei mai, è il limone, perché mi piace tantissimo come condimento. E lo posso consumare anche tutti i giorni, oppure un giorno sì e un giorno no, oppure due o tre volte a settimana. Non è importante, perché è un condimento. Per un periodo ho consumato regolarmente anche l'olio di cocco, l'esperienza è stata in parte positiva, in parte negativa. Raramente posso continuare a consumarlo, ma non tutti i giorni. Quindi, come vedi, questa è una dieta carnivora, chetogenica ovviamente, perché la maggior parte delle calorie che consumo deriva dai grassi. E quel poco di glucosio che il mio corpo ha necessità di avere, per alcune funzioni vitali, il corpo è perfettamente in grado di ottenerlo dalla gluconeogenesi, quindi dalle proteine, che a me non spaventa per niente, perché la gluconeogenesi è un processo assolutamente naturale. E anzi, se non avvenisse, sarebbe un problema. Quindi non di fare paranoie. Poi, in un video successivo, parleremo della quantità di proteine e di grassi che sarebbe ideale avere una dieta carnivora, perché le persone lo chiedono, ma quante proteine, quanti grassi, per quanto mi riguarda, è assolutamente inutile stare là con la calcolatrice in mano e mettersi a vedere quanti grammi si mangiano, quante calorie. Non serve assolutamente a niente. Dieta carnivora, mangia tutta la carne che vuoi, mangia tutto il pesce che vuoi, mettici qualche grasso vicino e sei a posto. Mangia di qualche organo ogni tanto. Poi, in un video successivo, parleremo anche degli organi. Cioè, è assolutamente necessario mangiarli, oppure no? Si devono mangiare almeno saltuariamente, oppure no? Che dirò la mia opinione al riguardo. Ma nel frattempo, se ti è piaciuto questo video, clicca sul tastino mi piace per supportarmi. E poi, se vuoi supportarmi concretamente, aiutarmi anche economicamente a realizzare sempre nuovi video, a non fermarmi più, In basso, nella descrizione, trovi il primo link sulla quale cliccare, tramite la quale puoi aiutarmi. Grazie mille per aver guardato il video. Ci vediamo al prossimo.